Ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG. Noi capiamo con il basket, il campionato di A1 di basket femminile posta in palio altissima questa sera nell'ultima partita della regular season per la Gesam Gassale Muralucca. Serve un palla tagliata e davvero tutto bianco-rosso e probabilmente così sarà per sostenere Crippa e compagne nella sfida palla 2 alle ore 18 contro la corazzata umana Venezia. In palio di fatto c'è la possibilità di chiudere al sesto posto la regular season che sarebbe un piazzamento ben più vantaggioso e in prospettiva utile rispetto ad un eventuale settimo posto. Tutte le notizie anche con immagini nel TG Sport delle 19 e 30. Siamo al calcio, domani torna in campo la Lucchese che scende in campo alle 14.30 al stadio Melani di Pistoia. Uno stadio anche notoriamente avverso per i colori rossoneri. Pensate solo 4 vittorie nei 90 anni di storia dei confronti tra rossoneri e arancioni. Vediamo però il servizio di presentazione. Al Marcello Melani per insistere nella bella striscia positiva e per compiere un altro passo in avanti verso la salvezza che ormai è proprio lì, dietro l'angolo. Ma anche per sfatare una tradizione che sul campo della Pistoiese, almeno in campionato, non è troppo favorevole alla Lucchese. L'ultima volta i rossoneri in Serie D, il 12 dicembre 2012, subirono infatti una sconfitta davvero bruciante per questa rete di anichini al 93esimo. Rifinitura al Porta Elisa sotto un sole primaverile per la truppa di Galderisi, che non rischierà Pagano. Giovedì si torna in campo per il turno prepasquale e rilancerà Calistri in difesa. Il forte difensore centrale di Montecatini è fuori da circa un mese e sarà testato in una partita vera. Forte ha vissuto una settimana intensa con l'Under 21 di Lega Pro, ma difficilmente gli verrà concesso un turno di riposo. Vediamo allora la Lucchese che calerà Pistoia di fronte ad un interlocutore affamato di punti salvezza. Di Masi in porta, Calcagni e Specie Calistri non è in difesa, Pizze e Mingazzini cerniera mediana, Ferretti e Losicco esterni a supporto di Forte e Rajcevic. Qualora dovesse giocare una sola punta, allora spazia Scapinello con Losicco trequartista centrale. La Pistoiese suscita spiacevoli ricordi, visto come finì all'andata, era il 16 novembre, in una partita dove successe di tutto e di più. Losicco portò in vantaggio in modo sollecito la Lucchese con un violento colpo di testa da distanza ravvicinata, sul quale Pazzagli non parve impeccabile, quel Pazzagli passato poi a gennaio proprio alla corte rossonera. Poi Di Masi combinò una bella frittata sul pareggio di Romeo, che a sua volta si infortunò su intervento di risaliti, espulso. Ridotta in dieci, la Lucchese soffrì parecchio la baldanza e l'intraprendenza degli arancioni di Lucarelli, tanto che in pieno recupero l'ex via Regino Mungo la punì con un tiro che si insaccò sotto la traversa. Trionfo della Pistoiese e capolinea dell'avventura di Guido Pagliuca all'ombra delle Mura. Sempre rimanendo in Lega Pro, due anticipi interessanti oggi, addirittura uno venerdì sera, Pisa-Prato 0-0, prosegue dunque il momento di grande difficoltà del Pisa, e San Marino-Savona 1-2, San Marino che giovedì salirà a Lucca. Vediamo i risultati della terza categoria, cominciando dal Girone A, campionati che si stanno rapidamente avviando alla conclusione. 26esima giornata, Pieve-San Paolo-Bargecchia 1-3, Piano di Conca-Don Bosco-Mazzola 1-2, Corsanico-Esperia-Viereggio 4-0, Montagna-Seravezzina-Lido di Camaiore 1-0, Fortis-Camaiore-Retignano 2-0, Piano di Momio-San Lorenzo 6-1, San Macario-Sporting-Lucca 1-5, Piano del Quercione-Unione-Chiesa-Massaciuccoli 1-1. Questa è la classifica a quattro giornate dalla fine, Corsanico 73 punti, Bargecchia e Piano di Momio 61, dunque al Corsanico manca un solo punto per vincere il campionato e salire in seconda categoria. Seguono poi Don Bosco-Mazzola 57, Fortis-Camaiore 39, Lido di Camaiore-Esperia-Viereggio 37, questo per le prime posizioni. Prima di passare al Girone B, vi do alcuni risultati del Girone di Massa della terza categoria, dove giocano diverse squadre versiliesi. Atletico Forte dei Marmi-Palleronese 3-4, Pontremoli-Versilia 1-3, Paradiso-Sporting-Forte dei Marmi 0-1. E siamo al Girone B, anche qui ventiseiesima giornata. Atletico Gragnano-Atletico Lucca 1-1, Sant'Anna-Capannori 4-2, Virtus Robur-Castelvecchio di compito 0-6, Valle d'Ottavo Massa-Maccinaia 1-1, Filecchio-Morianese 1-1, Molazzana-San Filippo 2-1, Ponte Cosi-San Vitesse 3-1, Ponte Amoriano-Segromigno. È il posticipo la classifica per le prime posizioni. Atletico Lucca 60, Molazzana 58, Segromigno 57, ma Segromigno che ha una partita in meno, Morianese 56, Filecchio-Ponte Cosi 51, poi via via tutte le altre. Per chiudere la pagina dedicata al calcio, al calcio dilettante, in questo caso vi ricordo che in virtù dell'entrata in vigore da questa notte dell'ora legale, anche le partite del calcio dilettantistico, dall'eccellenza fino alla seconda categoria, da domani inizieranno alle ore 15.30. Discreta prova dell'Italia, campionati del mondo junior di cross, svoltesi in Cina, Saeed Etachi della Virtus Cassa di Risparmio di Lucca, chiuso in 46esima posizione, che combinata con il ventesimo posto di Crippa ed il trentatresimo di Chiappinelli, ha consentito agli azzurri di chiudere all'ottavo posto nella classifica a squadre. Classifica a squadre che ha visto il successo del Kenya, mentre a livello individuale si è imposto Yasmin Aghi, corridore atleta etiope. Sempre per l'atletica, i giovani atleti del gruppo podistico Parco Alpepuana hanno fatto il loro debutto su pista in occasione del Grand Prix invernale che si è svolto al Moreno Martini di Lucca. Tra i ragazzi seguiti dai tecnici Fabio e Casotti, in evidenza tra gli esordienti A, Alessandro Vanni, Matteo Marchetti e Cristian Casella. Tra gli esordienti B, femminile, ottima prova di Matilda Turriani. Infine tra gli esordienti C, bravo nel doppio impegno, 60 metri e lungo, Riccardo Vanni. Il ciclismo, dopo la parentesi del Giro della Campania, si torna a correre in Coppa del Mondo con la prova di Cittiglio Varese in programma domani. A questa importante gara, la Michela Fanini Record Rocks di patron Brunello Fanini appunto dovrebbe presentarsi anche con la francese Edwige Pitel. La squadra del DS Lanzoni sarà completata da Lara Vieceli, Azzura Dintino, Nina Gulino, Michela Balducci e Alessandra Lari. E sempre per il ciclismo si corre domani la 65esima Coppa Giuseppe Cei, gara di apertura del calendario allievi. Si annuncia ancora una volta una gara di altissimo livello. Al via oltre 180 corridori provenienti da numerose regioni italiane con la presenza di atleti di primissimo livello. La corsa prenderà il via alle 14.30 dal Foro Buario a Monte San Quirico e si snoderà sulla distanza di 60 chilometri. Nel finale, a 5 dall'arrivo, l'ascesa di San Martino in Vignale, Gran Premio della Montagna. A difendere i colori locali, gli atleti dell'US Monte Carlo con ben 9 corridori al via, tra i quali Simone Peschiera, campione toscano esordienti nel 2013. Lo scorso anno, come abbiamo visto da queste immagini, si impose per distacco il Veneto Luca Mozzato. E torniamo a parlare di basket. Per parlare però di basket giovanile della 17esima edizione della Gesam Cup. E' già partita e pienamente operativa la macchina organizzativa per la 17esima edizione della Gesam Gas e Luce Cup Memorial Danilo Corsi che quest'anno non si giocherà a Pasqua per venire incontro alle esigenze del basket Lemura che deve preparare il playoff di A1 ma è stato spostato al 30-31 maggio e primo giugno. E si prepara ad essere un torneo, questo di basket giovanile in grande stile, con 8 formazioni coinvolte per l'Under 13 e 6 per l'Under 12 che per tre giorni si sfiederanno sugli impianti del Palatagliate ma anche di San Concordio e della palestra Matteotti di Sant'Anna. Del resto, in questi ormai oltre tre lustri di vita il torneo è sempre stato all'altezza della situazione. Sul piano tecnico non sono mancate formazioni ma anche giocatori di assoluto spessore che hanno regalato scampoli di ottima pallacanestro. Ed anche a livello organizzativo la macchina è ormai perfettamente attrezzata e oliata. Insomma, anche per l'edizione 2015 spostata a tarda primavera trapela ottimismo e fiducia per una tre giorni di eccellente spettacolo tecnico ed agonistico. E si profila un'altra edizione davvero straordinaria per il diciannovesimo premio Fedeltà allo Sport che si svolgerà il prossimo 4 maggio. Il vulcanico organizzatore Val Ternieri è infatti riuscito a portare a Lucca anche Dorina Vaccaroni ex campionessa mondiale ed olimpica di scherma. Il curriculum della schermitrice veneziana oggi 52enne davvero impressionante e comprende, pensate, tra olimpiadi, mondiali ed europei sette medaglie d'oro, tre d'argento e quattro di bor bronzo oltre a tre coppe del mondo e diversi titoli mondiali a livello giovanile. Insomma, un altro grandissimo personaggio per una serata che si profila di altissimo livello. È tutto per quanto riguarda la pagina sportiva di questa sera. Io vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa pubblicitaria il Tg prosegue con la terza ed ultima parte. A tutti voi la più cordiale. Buonasera.